Parlavi ieri in conferenza dicendo che il risultato era l'ultima cosa che volevi vedere quello che ti interessava era l'identità, la crescita e chiaramente l'aspetto prestazionale credo che in questo Lempoli stasera non abbia mancato, abbia fatto una ottima partita che poi è cambiata chiaramente con l'espulsione di Ricci e credo anche che a Lempoli stasera sia stato fatto un bel furto su un calcio di rigore netto non concesso hai detto quello che avrei detto anch'io, quello che posso ribadire sono d'accordo, è successo così come hai detto sono soddisfatto, farai complimenti ai ragazzi domattina e sono anche, va bene, sono costretto a ripetermi perché l'ho già detto anche di là e anche sull'episodio al quale tu facevi riferimento devo ripetermi, devo ribadire che hai perfettamente ragione e non ce l'ho con l'arbitro, lo puntualizza ancora di più perché Kifi fa lavoro difficilissimo, i suoi collaboratori lo fanno con molta applicazione con serietà e io voglio guardarmene bene dare l'impressione di parlare dell'operato dell'arbitro in campo però è un dato di fatto io ho visto, sono rientrato nello spogliatoio mi hanno fatto vedere l'immagine del fallo su Bairami in un telefonino l'ho visto, non è che l'ho visto a un mega schermo una volta l'ho visto sono miravigliato e dico anche qua quello che ho già detto gli devono dare una mano agli arbitri perché se non gli danno una mano vedendo una situazione del genere allora va a finire che è giusto ricominciare a parlare invece di calcio come tutti quanti auspicheremmo e dobbiamo riparlare del VAR e quindi mi metto anch'io nel coro del VAR e del Kaiser perché bisognerà che la portiamo all'oggettività una situazione del genere stasera seduto al VAR c'era Valeri non so se c'era seduto oppure se si era alzato era andato da un'altra parte perché in una situazione del genere è impossibile fare una valutazione del genere e è andato in tasca per dirla in maniera è andato in tasca a suoi colleghi perché li ha penalizzati perché Kifi che ha fatto una direzione come doveva fare e il risultato è che gli ha fatto un errore grosso perché non l'hanno aiutato perché non l'hanno aiutato oggettività bisogna portarla all'oggettività e a me siccome sono l'ultima ruota del carro come allenatore e come squadra non abbiamo bisogno di essere penalizzati abbiamo bisogno di avere il nostro non di più non voglio di più non voglio regali io non li voglio regali voglio quello che mi spetta e chi è preposto deve darmi quello che mi spetta e anche agli arbitri devono dare quello che gli spetta perché poverini se una cosa non la vedono devono aiutarla a me si apposta vale ma quello è facile non è l'interpretazione di un mano un dito la maglia no quella lì è un fallo netto non ho mai protestato io nel confronto degli arbitri mi ha tirato fuori Ricci a due metri da me ho accettato la decisione per me poteva essere anche arancione ha detto rosso decide lui l'ha visto lui finito io non parlo con nessuno però il VAR no non mi va bene ma te lo vedi è una situazione chiara me lo devi dare punto me lo devi dare altrimenti che oggettività c'è? la partita prende la piega c'è un arbitro che decide di là e ora fate decidere a questo qui mettiamo un'altra a complicarle i gol la partita di stasera è presto commentata con queste parole perché è questo episodio che pesa molto ci ha consegnato però un Empoli che quando la partita è in equilibrio con chiunque se la gioca a viso aperto vorrei allargare un po' il campo perché noi è tanto tempo che non ci vediamo nel dopo partita e le voglio chiedere questo se le piace la definizione di Empoli squadra moderna e mi spiego meglio l'Empoli non ha mai pareggiato ancora e nel calcio moderno quello dei tre punti il pareggio è considerato una mezza sconfitta mi piace come filosofia perché comunque l'Empoli gioca sempre per vincere e quando si gioca per vincere si può anche perdere siccome faccio questo discorso perché nelle sconfitte di quest'anno si sono sentiti dei commenti della gente, dei tifosi ah ma l'Empoli in determinate partite si deve coprire no, io non sono d'accordo perché sposo la filosofia le chiedo appunto se le piace questa definizione di Empoli squadra moderna mi sembra che dire moderna mi sembra una cosa positiva però non so se è positiva a me non so se sono moderno sono un po' antico come età ma non so se sono moderno come conduzione di squadra e come interpretazione del gioco però per me il gioco è questo tentare di superare l'avversario essere più bravi di loro cercare di dare ai calciatori la possibilità di esprimere il meglio che hanno e farlo per un obiettivo che li gratifica non voglio andare in campo per non subire voglio andare in campo per esprimere quello per cui lavoro quello per cui ricevo ricevo tutto quello che durante la settimana mi crea sacrificio lo ricevo in parte proporzionale devo cercare di ottenere questo se riesco a ottenerlo sono una persona felice penso che siano felici anche i calciatori poi sai dopo c'è il moderno e c'è quello come dici giochisti c'è quelli risultatisti però quello che conta è la sostanza delle cose no? come fai tu ad affrontare l'Inter con l'Empoli se non crei i presupposti di 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 una convinzione mentale che ti pone verso il loro livello verso dico sei morto no? sei morto anche quando dai il 100% figurati se se tu vai in campo col bracino oppure cercando di sopravvivere che sopravvivi? scusa mi ho detto stamani ai calciatori ma io voglio se devo morire voglio morire da vivo non voglio morire con l'Eflebo no no via tutto voglio morire da vivo non capisci? non so se se sono chiaro stasera stasera sono un pochino meno lucido del solito ma scusa per esempio facciamo un esempio spicciolo no? noi abbiamo giocato dieci partite ok? se noi avessimo fatto meraviglie e non avessimo mai perso non avessimo mai subito un gol quanti punti avremmo con dieci pareggi dieci punti quindi meno di quelli che abbiamo adesso ne abbiamo dodici quanti ne abbiamo perso? sei e quattro vittorie voglio dire io devo cercare devo cercare il massimo risultato e poi ho un altro obbligo io quello di far crescere ragazzi giovani di creare una mentalità che sia vincente sia per la società ora che per la loro carriera come è successo in passato e solo cercando di dare una mentalità diciamo moderna io dico positiva io dico positiva solo facendo questo tu puoi incidere fortemente e puoi giocartela con la Juve giocartela con l'Inter giocartela con la Roma giocartela con quelle che sono stratosferiche l'ho detto stasera all'allenatore di loro alla fine oh ma non ce n'è più da mettere in campo ce n'hai ancora qualcuno più ne metteva e più erano forti no per dire ecco poi tu devi devi veramente asciugarti la fronte tutte le volte no per poter competere ma lo puoi fare soltanto con quella mentalità che tu sposi ma la sposo anch'io io poi non lo saprei fare il contrario ti dico la verità perché se tu mi dici di mettere in campo una squadra per difendere un risultato io faccio fare al mio secondo che lui è più bravo a me perché a me non mi riesce ecco senti mister abbiamo detto che l'espulsione di Ricci ha cambiato l'equilibrio della partita fino a lì l'Empoli aveva tenuto benissimo ed era sotto immediatamente stavi preparando un triplo cambio hai preparato un triplo cambio per ridare quell'equilibrio è arrivato il gol purtroppo era il 2-0 e ci ha tagliato le gambe ecco ti chiedo col senno di poi se quel cambio poteva essere pensato un pochino prima e quanto ti ha fatto rosicare appunto che però con i tre giocatori in linea pronti a rientrare è arrivato questo gol ti chiedo anche un giudizio su Parisi alla prima la titolare l'ho detto anch'io nel momento che stavamo per far cambio hanno fatto il secondo gol che ci vuoi fare è una questione di pochi minuti era difficile anche fare le sostituzioni però volevamo dare un impulso che fra l'altro io ho visto lascia stare il risultato però anche se il 2-0 l'impulso l'ho visto perché poi quelli che sono entrati sono stati bravi hanno fatto il loro però lì sono anche momenti non penso che cambiasse molto la situazione però ci sta anche che potesse cambiare come si fa a dire Parisi bravo perfetto è quello che mi aspettavo quello che conoscevo quello che conoscevo anche per sentito dire cioè che è un animale da battaglia e non e non solo da allenamento ora sta bene comincia a star bene ha finito con i crampi ha giocato molto bene con molta personalità anche con forza fisica perché poi bisogna sempre fare il paragone con gli avversari e lì sai da quella parte sono avversari che sono diretti e tu ti devi confrontare in uno contro uno tante volte e non subire con questo tipo di avversari è una medaglia al valore